A nord-ovest della collina indiana, a circa 9 miglia in linea d'aria, c'è il burrone di Macarget. Non è proprio un burrone, ma un semplice avvallamento fra due creste alberate di trascurabile altezza. Dalla bocca alla testa, poiché i burroni come i fiumi hanno una propria anatomia, la distanza non supera le due miglia, e la larghezza al fondo non altre passa che in un solo punto la dozzina di metri. Per la maggior parte della distanza, su entrambe i lati del piccolo ruscello, che fa defluire le acque d'inverno e rimane asciutto fino agli inizi della primavera, non c'è terreno posto a livello, i ripidi pendei delle colline, coperti da una massa quasi impenetrabile di arbusti, sono divisi da null'altro che della lunghezza del corso d'acqua. Nessun altro, se non qualche occasionale cacciatore intraprendente dei dintorni, è mai andato nel burrone di Macarget, e a una distanza di 5 miglia non ne conoscono nemmeno il nome. Entro quella distanza, in ogni direzione, ci sono punti topografici senza nome ben più importanti, ma si potrebbe tentare in vano di accertare, attraverso un'inchiesta effettuata sul luogo, l'origine del nome del burrone. A metà strada, tra l'inizio e la fine del burrone di Macarget, la collina sulla destra, appena si sale, è spaccata da un altro burrone, piccolo e asciutto. Sul punto di unione dei due, c'è uno spazio piano, di due o tre acri, e pochi anni fa c'era una casa di assi di legno, formata da una sola piccola stanza. Come le poche e semplici parti di questa casa fossero state montate in quel posto inaccessibile, è un problema la cui soluzione sarebbe più un motivo di soddisfazione che un reale vantaggio. Forse il letto del fiume era una strada in seguito soppressa. È certo che una volta il burrone fu quasi del tutto esplorato dai minatori che avevano avuto i mezzi per arrivarvi, avendo animali da soma che trasportavano utensili e rifornimenti. I loro guadagni ovviamente non erano tali da giustificare una considerevole spesa per collegare il burrone di Macarget con un centro civilizzato che avesse una segheria. La casa comunque era lì, o almeno la maggior parte di essa. Mancavano la porta e il telaio di una finestra, e il camino di fango e pietra era ridotto a uno sgradevole ammasso ricoperto da arbaccia ricogliosa. L'umile mobilio, come doveva essere stato in origine, e la maggior parte delle tavole inferiori del rivestimento esterno, erano servite da combustibile per i fuochi da campo dei cacciatori. La stessa sorte doveva aver seguito, probabilmente, il parapetto di un vecchio pozzo che al tempo in cui scrivo esisteva nella forma di un'apertura più larga che profonda accanto alla casa. Un pomeriggio, nell'estate del 1874, penetrai nel burrone di Macarget dalla stretta valle nella quale si apriva, seguendo il letto asciutto del ruscello. Ero a caccia di quaglie, e avevo già riempito il carniere con una dozzina circa di uccelli quando arrivai alla casa che ho descritto, la cui esistenza ignoravo fino a quel momento. Dopo aver ispezionato senza troppa attenzione le rovine, ripresi la caccia, e dato che avevo un discreto successo la prolungai fino quasi al tramonto, quando mi accorsi che ero lontano da ogni abitazione umana, troppo lontano per aggiungerne una prima di notte. Nel mio carniere c'era del cibo, e quella vecchia casa avrebbe potuto offrirmi un riparo, se mai ci fosse stato bisogno di riparo, in una notte calda e senza rugiada, sulle colline ai piedi della Sierra Nevada, dove si può dormire comodamente sugli aghi di pino senza coprirsi. Mi piace la solitudine, e amo la notte. Così presi subito la decisione di accamparmi fuori, e dal momento che era già buio, feci un letto di rametti ed erba nell'angolo della stanza, poi arrosti una quaglia al fuoco che avevo acceso del camino. Il fumo usciva dal camino in rovina, la luce illuminava la stanza con un bagliore mite, e mentre consumavo il mio pasto frugale, costituito da quel semplice uccello, e bevevo quel che rimaneva di una bottiglia di vino rosso che mi era servito tutto il pomeriggio al posto dell'acqua che la regione non forniva, provai un senso di conforto che un miglior vitto e comodità non sempre riescono a dare. Ciò nonostante mancava qualcosa. Provavo un senso di conforto, ma non di sicurezza. Mi accorsi che fissavo più frequentemente di quanto potessi giustificare la porta aperta e la finestra vuota. Al di là di queste aperture, tutto era nero. Ero incapace di reprimere una certa sensazione di apprensione, mentre la mia fantasia dipingeva il mondo esterno e lo riempiva di entità nemiche, naturali e soprannaturali. Prime fra queste, nelle loro rispettive classi, c'erano l'orso grigio, che sapevo essere stato visto occasionalmente in quella regione, e il fantasma, che avevo ragione di pensare non esistesse. Sfortunatamente, le nostre sensazioni non sempre rispettano la legge delle probabilità, e per me, quella sera, il possibile e l'impossibile erano ugualmente inquietanti. Chiunque abbia avuto un'esperienza simile deve aver osservato che di notte si affrontano pericoli reali e immaginari con minore apprensione all'aperto che in una casa con la porta aperta. Provavo questo allora, mentre giacevo sul mio letto di foglie in un angolo della stanza vicino al camino, e lasciavo che il fuoco si andasse spegnendo. La sensazione di una presenza di qualcosa di maligno e minaccioso divenne così forte che mi trovai quasi incapace di spostare il mio sguardo dall'apertura, mentre la crescente oscurità mi rendeva sempre più indistinta. E quando la piccola, ultima fiammella guizzò e si spense, afferrai il fucile che avevo posato accanto a me, puntando la canna in direzione dell'ingresso ormai invisibile, con il pollice su uno dei cani, pronto a caricare l'arma, il fiato sospeso e i muscoli rigidi e tesi. Ma più tardi posai il fucile con un senso di vergogna e mortificazione. Che cosa temevo e perché io, per il quale la notte aveva avuto un viso più familiare di quello di un uomo, io, che da quell'elemento di superstizione ereditaria dal quale nessuno di noi è completamente libero, avevo conferito alla solitudine e al silenzio solo un più seducente interesse e fascino. Ero incapace di comprendere la mia follia e, perdendo nelle congetture il motivo che l'aveva causata, mi addormentai. Fu allora che sognai. Mi trovavo in una grande città di un paese straniero, una città la cui popolazione era della mia stessa razza, con minime differenze nel linguaggio e nelle abitudini, benché non possa dire precisamente, benché non possa dire precisamente in che cosa consistessero, la mia percezione di essa era indistinta. La città era sovrastata da un grande castello sito in un'altura, di cui conoscevo il nome ma che non sapevo pronunciare. Camminai per molte strade, alcune larghe e dritte con alti edifici moderni, altre strette, tetre e tortuose, tra mura di vecchie case bizzarre, i cui piani superiori e elaborati erano pieni di storie inquietanti, che balzavano fuori dalle sculture in legno e in pietra, che sentivo sovrastarmi. Ero alla ricerca di qualcuno che non avevo mai visto, e tuttavia sapevo che l'avrei riconosciuto una volta trovatolo. La mia ricerca non era casuale e aleatoria, ma seguivo uno schema ben preciso. Andavo da una strada all'altra senza esitazione e mi infilavo in un dedalo di passaggi intricati, senza alcun timore di perdere la strada. Dopo poco mi fermai davanti a una porta alquanto bassa di un semplice edificio in pietra, che poteva essere stato anche l'abitazione del migliore degli artigiani, ed entrai senza annunciarmi. La stanza, quasi priva di mobilio e illuminata da un'unica finestra e con i piccoli vetri a forma di diamante, era occupata solo da due persone, un uomo e una donna. I due non fecero caso alla mia intrusione, una circostanza questa che in certi sogni sembra del tutto naturale. Non parlavano e sedevano lontano l'uno dall'altra, senza far nulla e con il volto accigliato. La donna era giovane e piuttosto robusta, con grandi occhi e una bellezza solenne. Il ricordo della sua espressione è estremamente vivido, eppure nei sogni non mi riusciva di osservare i particolari del suo viso. Portava uno scialle di lana. L'uomo era più anziano, scuro, con lo sguardo cattivo, reso ancora più sgradevole da una lunga cicatrice, che gli deturbava il viso diagonalmente dalla tempia sinistra fino ai neri baffi, anche se nel sogno sembrava che quello sfregio tormentasse il suo viso come un elemento diverso. Non riesco a esprimerlo altrimenti, piuttosto che esserne una parte integrante. Il momento stesso in cui vidi l'uomo e la donna, seppi che erano marito e moglie. I ricordi indistinti di quanto accadde successivamente sono confusi e resi inconsistenti a causa, credo, degli intervalli di piena coscienza. Avevo l'impressione come se le due immagini, la scena del mio sogno e il mio ambiente reale, si sovrapponessero l'una all'altra, finché la prima non era scomparsa, esaurendosi in maniera graduale, e io mi ero svegliato del tutto nella capanna deserta, ben consapevole della mia situazione. Le mie ridicole paure erano svanite, e aprendo gli occhi mi accorsi che il fuoco, non ancora del tutto estinto, era stato ravvivato da un pezzo di legno e illuminava nuovamente la stanza. Avevo dormito probabilmente solo pochi minuti, ma il mio sogno banale si era in qualche modo così impresso in me da rendermi ben lucido, e mi alzai in fretta, radulai i tizioni del fuoco e nell'accendere la pipa induciai in alcuni movimenti piuttosto metodici per soffermare la mente sulla mia visione. Sarebbe stato imbarazzante per me dire allora sotto quale aspetto l'episodio meritava la mia attenzione. Fin dalla prima serie riflessione che feci sulla vicenda, riconobbi nell'ambiente di sfondo del mio sogno la città di Edimburgo, dove non ero mai stato, come se quel sogno fosse un ricordo di immagini e di descrizioni. L'identificazione mi aveva in qualche modo impressionato profondamente, e mi sembrava come se qualcosa nella mia mente insistesse sull'importanza di quella vicenda anche contro la volontà e la ragione, e quell'elemento, qualunque fosse, esercitava anche una notevole influenza sul mio ragionamento. Certamente, dissi a voce alta, involontariamente i McGregors devono essere arrivati qui da Edimburgo. In quel momento non mi sorprese affatto, né la sostanza di quell'osservazione né l'averla fatta. Sembrava del tutto naturale per me conoscere il nome delle figure del mio sogno e qualcosa della loro storia. Ma all'improvviso mi resi conto di tale assurdità. Scoppiai in una fragolosa risata, feci cadere la cenere dalla pipa, e mi allungai ancora sul mio giaciglio di rami e di erba, dove mi trovavo con lo sguardo fisso e distratto sul falò morente, senza ulteriori pensieri, a parte il sogno e l'ambiente che mi circondava. Improvvisamente l'unica fiammella rimasta si attenuò per un istante, poi si riaccese facendo brillare i suoi residui, e infine si esaurì. L'oscurità era totale. In quell'istante, poco prima che il barlume della fiamma si dileguasse, risuonò un rumore sordo, simile a quello di un corpo ricaduto pesantemente sul pavimento, e sentii tremare sotto di me. Con un balzo mi misi seduto e cercai a tentoni la pistola che avevo al mio fianco, con l'idea che qualche bestia feroce si fosse lanciata all'interno della stanza, attraverso la finestra aperta. Mentre la costruzione non molto consistente era ancora scossa per l'impatto, avvertii il rumore di passi strascicati sul pavimento, e poi sembrò giungere da brevissima distanza l'urlo agghiacciante di una donna agonizzante. Non avevo mai sentito né immaginato un grido così terrificante. Mi per un istante fui cosciente unicamente del mio stesso terrore. Fortunatamente la mia mano aveva trovato l'arma che cercavo, e quel contatto familiare mi diede un minimo di sollievo. Balzai in piedi sforzando gli occhi nel buio assoluto. I suoni violenti erano svaniti, ma ora ne avvertivo altri ancora più terrificanti. A lunghi intervalli erano i rantoli appena percettibili e intermittenti di un essere agonizzante. Appena negli occhi si furono abituati alla tenue luce dei carboni accesi tra la cenere del fuoco, vidi per prima cosa le ombre della porta e della finestra, che apparivano più nere rispetto alle scure pareti. Successivamente divenne ben visibile la differenza tra il pavimento e la parete, e alla fine riuscivo a scorgere bene la forma e l'estensione del pavimento in ogni direzione. Non si vedeva altro, e il silenzio era assoluto. Con una mano un po' tremante, mentre l'altra stringeva la pistola, ravvivai il fuoco e perlustrai accuratamente l'interno della stanza. Non vi era alcun segno che qualcuno fosse entrato nella capanna. Solo le mie trazze erano visibili sul pavimento ricoperto di polvere, e non ve ne erano altre. Riazzesi la pipa, ravvivando la nuova fiamma, con una o due tavole sottili strappate dall'interno della casa. Non mi preoccupai di uscire nell'oscurità, che si stendeva fuori dalla porta, e trascorsi il resto della notte fumando, riflettendo e alimentando il fuoco. Non avrei mai più permesso che quella piccola fiamma si esaurisse ancora. Qualche anno dopo incontrai a Sacramento un uomo di nome Morgan, del quale avevo ricevuto un biglietto di presentazione da parte di un mio amico di San Francisco. Mentre una sera mi trovavo a cenare con lui, nella sua casa, osservai vari trofei appesi alle pareti, a testimonianza della sua passione per la caccia. Tale supposizione risultò poi vera, e nel raccontare alcune delle sue geste dichiarò di essere stato nella regione della mia avventura. Mr. Morgan chiese improvvisamente, conoscete un luogo da quelle parti chiamato MacArthur Scalch? Certo. E per delle buone ragioni, replicò, fui io a dare ai giornali la notizia del ritrovamento dello scheletro lo scorso anno. Non ne avevo saputo nulla. Probabilmente la notizia era stata pubblicata mentre mi trovavo in viaggio in Oriente. Ogni modo, disse Morgan, il nome del burrone è errato. Si sarebbe dovuto chiamare McGregor's. Cara, aggiunse rivolgendosi alla moglie, il signor Elderson ha rovesciato il suo vino. Non era proprio esatto. Lo avevo semplicemente lasciato cadere, sia il bicchiere che il suo contenuto. Era una piccola capanna, una volta, nel burrone. Morgan riprese il filo del discorso non appena l'incidente provocato dalla mia goffaggine fu riparato. Ma, proprio prima della mia visita, era stata abbandonata o piuttosto spazzata via, perché le sue materie erano disseminate tutto intorno e il pavimento vero e proprio era diviso in tanti pezzi. Tra due dei cadaveri, rimasti nella posizione originale, io e il mio compagno osservammo i resti di uno scialle di lana. Riesaminandolo attentamente scoprimmo che avvolgeva le spalle di un corpo di donna, di cui poco rimaneva sulle ossa, in parte coperte da frammenti di indumenti e da brandelli di pelle bruna e in carta pecorita. «Ma vi risparmieremo i particolari, signora Morgan», aggiunse con un sorriso. La donna aveva infatti dimostrato segni di disgusto, piuttosto che di compassione. «È quello stesso strumento, il manico di un piccone, ancora sporco di sangue, giaceva sotto alcune tavole non lontane». Mister Morgan si voltò verso la moglie. «Scusami, cara», disse con ostentata solennità, «per aver menzionato questi particolari spiacevoli. Erano i naturali, seppur riproveboli, risultati di un litigio coniugale, frutto senza alcun dubbio della insubordinazione di una moglie esciagurata». «Dovrai essere in grado di non farsi caso», replicò la signora con calma. «Mi ha chiesto troppe volte di poter proseguire quel discorso». Mi resi conto che lui sembrava piuttosto felice di andare avanti con la sua storia. «Da queste e altre circostanze», disse, «la giuria del sostituto procuratore, scoprì che la defunta Jeanette McGregor era stata uccisa da una persona sconosciuta. Ma aggiunse che l'evidenza indicava fortemente suo marito, Thomas McGregor, come il colpevole. Ma Thomas McGregor non fu mai trovato, né se ne seppe più nulla. Si seppe invece che la coppia veniva da Edimburgo, ma non...» «Mia cara, non vedi che il piatto per le ossa di mister Elderson contiene acqua». Avevo messo le ossa di pollo nella vaschetta lavadita. In una piccola tazza trovai una fotografia di McGregor, ma ciò non portò alla sua cattura. «Posso vederla?» chiesi. La fotografia mostrava un uomo scuro, con un viso cattivo, reso più torvo da una lunga cicatrice, che dalla tempia sinistra si estendeva diagonalmente fin dentro i neri baffi. «A proposito, mister contrariato!» «Mia cara», disse mister Morgan, con l'intonazione meccanica di un interprete che sta traducendo. «La perdita del mulo ha fatto mettere a mister Elderson il pepe nel caffè».